Siamo con Gianluca De Ascenso, Vicepresidente OIC e Presidente Kodakons a questo incontro sul sovraindebitamento proprio organizzato dall'OIC insieme a Prode Italia. Come è andato questa mattinata? Quali temi sono stati discussi? Sono molto soddisfatto dell'esito di questo convegno perché hanno partecipato esperti e professionisti del settore, incluso il Presidente della sezione fondamentale del Tribunale di Torino. Quello che è emerso è che il cittadino purtroppo ancora non conosce questo tema, questo strumento offerto dal nostro sistema per venire incontro a chi si trova in difficoltà economica. Quindi questa conferma la bontà dell'iniziativa di OIC, sicuramente ne organizzeremo anche altre e invito tutti quanti a consultare periodicamente il nostro sito perché iniziative come queste saranno sicuramente replicate.